Ciao a tutti ragazzi, bentornati dal canale YouTube Era da un sacco che non facevo una recensione Scusate tutto il casino che c'è in ufficio Ma oggi parliamo di una cosa interessantissima Anzi Avete già capito? Sì, ho il cappellino DJI perché oggi Grazie ai ragazzi di Go Camera che ce l'hanno mandato per recensirlo Tiriamo fuori dal cilindro il nuovo Lacy DJI Co-Pilot Boss Series Dove Boss sta per Backup Onset Solution Ma andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno della scatola Questo è l'hard disk, ragged È molto bello da impugnare, è piacevole, è gommato Vedete, ha tutto questo rivestimento gommato Ha un pulsante di accensione di qua E tutto nascosto all'interno, diciamo, le prese che sono dietro a questo portellino Che poi andremo a vedere È antipolvere, antiacqua e anti caduta Abbiamo poi una quantità di cavetteria inverosimile ragazzi Cioè qualsiasi oggetto voi abbiate Che sia un USB, una micro USB, una USB-C, un cavo lightning Ha praticamente qualsiasi attacco di cui voi avrete bisogno Insieme ai vari attacchi avremo anche i caricabatterie Con tutti i vari agganci di tutte le nazioni E il caricabatterie, appunto, universale Su cui poi andremo a collegare, in questo caso, quello europeo Che è quello che interessa a noi Diamo un'occhiata alle peculiarità principali di questo giocattolino Innanzitutto, essendo waterproof, dustproof Ha questa protezione qui davanti Che, rimuovendola, nasconde al suo interno Tutte le varie entrate ed uscite del dispositivo A partire dall'alimentatore Ho una batteria interna Questo DJI Co-Pilot Quindi, in realtà, oltre ad essere un hard disk portatile Ha la possibilità di non essere collegato alla presa di corrente Mentre viene utilizzato E la sua batteria interna Permette addirittura di essere utilizzato come battery bank Quindi un caricatore esterno a quello che avete Tipo per caricare il telefonino Per caricare le batterie di un drone piccoletto Come può essere uno spark Il radiocomando E via dicendo Quindi, dicevamo Carica batteria La presa USB 3.0 Una presa USB-C Uno slot per le nostre SD o microSD con adattatore E poi una presa micro USB Praticamente qualsiasi tipologia di presa All'interno della scatola che vado a prendere Ok Abbiamo per ogni buco Un cavo adeguato Adatto all'utilizzo La cosa veramente interessante è che Potete utilizzarlo on the go È possibile collegarlo alla corrente Ma solitamente viene utilizzato On the go Così, libero e felice Perché noi lo andremo ad accendere E qui Questo qui è un display Ok Che ci sta ad indicare la percentuale di batteria E la capacità di gigabyte Liberi in questi casi Che sono 1995 gigabyte di memoria Disponibile, 2 terabyte Prendiamo una SD Tipo questa qui della session Se c'è qualcosa al suo interno E recuperiamo un abattatore C'è un casino oggi ragazzi qua dentro Che è indescrivibile Per fortuna vedete solo questo piccolo angolo Ma veramente Andiamo a inserirla all'interno E non faremo altro che inserire La SD all'interno All'interno dello slot dedicato Copi? Sì Parte E inizia a copiare la mia SD On the go Cioè Con quello che volete E prendete la SD La cacciate qua dentro E andrete ad inserire Tutto quanto all'interno dell'hard disk Quindi un backup immediato Completo Tra l'altro Il buon LAC Ci da la micro USB A USB-C Oppure micro USB A Lightning Se avete iOS Oppure Se ce la faccio staccarlo Ho preso quello sbagliato Ecco Quello che serve a me Quindi micro USB To micro USB Perché? Perché io in questo modo Posso collegare Il mio device Così Lo inserisco qui E posso Tra l'altro Tenerlo In questo Spazietto Comodissimo Di modo che Non serve neanche Che Lo vado a staccare E riattaccare ogni volta Geniale Che sta perfettamente Qui All'interno Quando poi Andrò a chiudere Tutto quanto Oh notate Che dentro C'è ancora l'SD Quindi anche Mentre Sta copiando Mi ha appena detto Copy Done Quindi appena Fatta la copia Anche mentre sta copiando Io posso Chiuderlo Tranquillamente E riposizionarlo Perché magari Devo andare a lavorare Devo andare fuori A utilizzare Il drone O la telecamera Intanto questo Continua Da solo Per i fatti suoi A copiare E vi volevo Mostrare Questa cosa qua Che appunto Abbiamo la possibilità Inoltre Di collegare Questo Allo smartphone Lo prendiamo Da di qua Questa Andiamo a togliere Perché tanto L'abbiamo copiata Collego il mio smartphone E vado a scaricarmi L'applicazione Copilot Boss Notate che Mentre si collega Il DJI Copilot Tra l'altro Avremo anche Il telefono Sottocarica Ed eccoci qui Nella schermata Principale Dove Andremo a vedere Che avremo Il Lacy DJI Copilot Di Tommy Avremo Il mio Xiaomi Redmi Note Con dentro Tutto quello Che c'è Di riguardo Se io entro Dentro Il Lacy Troveremo Una cartella Che è quella Che poi avremo Anche sul computer Di backup All'interno Della quale Abbiamo I vari salvataggi Il salvataggio Di oggi È 2018-08-08 Fatto Alle 19-05 All'interno Del quale Ci sono Che cosa I file Che c'erano All'interno Della nostra GoPro Hero Session E Andiamo su D-Cim Su GoPro E vedete Che all'interno Appunto Ci sono Tutti I file Che abbiamo Scaricato Della GoPro Veramente Fatto Bene Un prodotto Incredibile Grazie ancora I ragazzi Di Go Camera Che mi hanno dato Come sempre La possibilità Di recensire Un prodotto Così Formidabile Così fantastico Credo sia Indispensabile Come oggetto Per chi si occupa Di trasferimento Di file On the go Proprio durante Le giornate Lavorative Fuori All'aperto Tra l'altro All'interno Della scatola Viene anche Fornito Un pacchetto Di Recovery Rescue Quindi nel caso Succedano Delle problematiche Con il nostro Lacy Abbiamo la possibilità Di andare A utilizzare Questo Recovery Rescue Di Seagate Viene dato anche Un mese di prova Gratuito Della Adobe Creative Cloud E ovviamente Potete utilizzarlo Con qualsiasi Altro prodotto Mi fa impazzire Il fatto che ci sia Questo screen Questo display Che vi dice Tutto Quello che sta Succedendo All'interno Della hard disk Tra l'altro Un display Che Insomma Sembra Non si capisce Qual è Dei due Il display E' fatto Veramente bene Anche come Come materiale E quindi Super 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 Prodotto Peso Mezzo Kilo Dimensioni 13,6 Per 11,1 Per 3,6 Centimetri Se volete acquistarlo Sotto avrete il link In descrizione Di sicuro Non mi resta che salutarvi Ricordatevi di iscrivervi Al mio canale Cliccate mi piace Su questo video E condividetelo Se pensate che Qualche amico Vostro Professionista Possa essere interessato Ad un prodotto Del genere Ci vediamo Con la prossima Recensione Che non è così lontana Perché il prodotto Lo sto testando Proprio in questo momento Qui fuori Ma ci vuole un po' di tempo E Un saluto a tutti quanti Ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ah Ovviamente Si attacca anche al computer Funziona come un hard disk normale Se ve lo chiedevate Però la figata È che On the go Ve lo portate sempre dietro Ciao ragazzi Alla prossima